tradurre le immagini della commedia è una pratica di lunga lunghissima durata inizia nelle città medievali intorno al 1330 e continua ancora oggi gli artisti sono ancora impegnati oggi anzi in questo momento quel centenario artisti di tutto il mondo stanno ancora producendo opere in qualche modo legate al poema dantesco o alla vita di dante attraversando secoli e culture diverse questa pratica ha dato luogo a un'infinità di opere non neppure censite ma quelle che conosciamo e che sono hanno superato il diluvio della storia sono il numero sterminato ognuno di esse è espressione di un modo di vedere dante di leggere la commedia e testimone di una modalità della ricezione del testo parallela a quella attestata tramandata dai commenti ed al secolare dal secolare commento assolutamente impossibile seguire questa è assolutamente impossibile seguire nei dettagli di questa storia specialmente una occasione così breve la mia intenzione è quella di offrire a questa a questo con questo momento così interessante che ci vede festeggiare ricordare il settecentesimo anniversario della dalla morte di dante alcuni esempi delle modalità con cui il testo è stato visualizzato illustrato o istoriato nel corso del tempo questi termini che ho utilizzato sono termini tecnici su cui vale la pena soffermarsi un attimo illustrare si intendo usare questo termine esclusivamente per indicare i casi in cui le figure compaiono a corredo del testo e dialogano col testo proponendo spesso come vedremo delle vere e proprie interpretazioni orientando la lettura di chi sfoglia le carte di quei libri per visualizzazione si deve intendere secondo me piuttosto un altro tipo di opere quelle che nascono che gli artisti creano partendo dal testo ma che sono destinate a vivere di vita propria una statua una fresca una fresco per esempio un quadro famosi quali danteschi che ebbero tanto successo nell'ottocento oggi addirittura violini incisi o video queste sono forme di visualizzazione. Istoriato è un termine che riguarda le forme di illustrazione molto estese dove compare anche il testo è il caso delle opere prodotte da Botticelli compare anche il testo ma il testo è nel retro del disegno è in posizione secondaria quello che conta è l'illustrazione allora in questa prospettiva intendo presentare intendo presentare il intendo presentare il mio powerpoint una serie di una serie di opere che sono state prodotte nel corso del tempo la prima una delle prime prodotti realizzati siamo all'inizio delle misate 300 è questo affresco di Nardo di Cione in Santa Maria Novella famosissimo dove vedete sono messi in scena in ordine rispettando il testo dall'alto verso il basso dalla barca di Caronte a Lucifero tutta la struttura dell'inferno organizzata per sezioni molto precise al lato potete vedere alcuni particolari è interessante questo primo esempio un esempio che ci dimostra che l'arrivo della commedia ha posto diversi problemi grandi problemi al pubblico intanto racconta qualcosa di assolutamente inedito racconta un viaggio dichiarato vissuto reale da un uomo conosciuto a Firenze di cui si conosce la storia o anche addirittura la fisionomia almeno per le antiche generazioni che dice di aver visitato il mondo di là un mondo che nessuno ha mai descritto in maniera così dettagliata e quindi le illustrazioni o le visualizzazioni questa è una visualizzazione rispondono proprio a questo bisogno mettere in scena far vedere ciò che lui ha descritto ciò che lui ha sperimentato e vedete un inferno ma si può procedere naturalmente anche questo è importantissimo siamo ormai un secolo più avanti come ha stato dimostrato dagli storici il purgatorio è stato in qualche modo fissato nell'immaginario collettivo proprio dal purgatorio inventato da dante una novità assoluta domenico di michelino fa una raffigurazione molto sintetica dell'inferno mette in scena dante che mostra il suo libro la città del battista ma dietro molto preciso e molto articolato questo purgatorio che si impone alla collettività sulla base del testo dantesco quindi mettere in scena il la di là creato da dante le case le varie case della dantesca è uno dei temi importanti di questa storia l'altra l'altra l'altro tema estremamente importante che ha riempito manoscritti antichi e libri ancora oggi illustrati è la storia di dante la storia del viaggio viaggio visione in questi mondi che abbiamo appena ricordato questo è un manoscritto che si ritiene prodotto vedete fra il 5350 al 75 forse in aria toscana oggi è a oxford manoscritto oltre miscellaneo 48 è un manoscritto molto semplice per certi versi ma estremamente prezioso perché è estremamente fedele ed è interessante perché vedete tanto e virgilio camminano e quindi questa è la tecnica si chiama dell'illustrazione continua prima primo passaggio davanti all'ustoriosi secondo passaggio davanti a paolo francesca il colloquio è interessante perché per ognuno dei personaggi compaiono i nomi semiramide semiramide didone creopatra chile pari de tristano e poi paolo di baratesta madonna francesca dal rimi e così ancora per ugolino non sto a fare un'analisi dettagliata e così ancora per riparare per il purgatorio vedete l'arrivo della navicella l'incontro con le anime appena sbarcate catone dante e virgilio e poi vedete casella ecco una illustrazione fedelissima questa è una delle illustrazioni più rare perché il paradiso è poco illustrato naturalmente è una delle zone del testo del poema che pone più difficoltà a dante per raccontare e agli illustratori per visualizzare naturalmente però in questo caso vedete questo illustratore si è preoccupato di dare al perfino i nomi di ognuno delle beati che sono ospitati dai petali nei petali della candida rosa vedete pietro giovanni il battista francesco domenico anna eva eccetera eccetera ecco questo è molto interessante perché ricorderete c'è un passo famoso di contini che dice la commedia anche una corda canera e un gazzettino rosa è così a firenze in toscana ma forse anche in italia si legge la commedia nei primi tempi anche per vedere questo che fine hanno fatto le persone che noi conosciamo e questo è un aspetto di grandissimo interesse che si misura anche con un problema un po più significativo cioè quello della natura dell'opera di cui si sta parlando che cosa è allora la commedia questo è un problema che ci poniamo ancora oggi ma si ponevano già i primi lettori nel caso dell'olcam ho fatto vedere come un'illustrazione fedelissima corra nel bordo del manoscritto chi vedete l'incontro con le fiere nel margine della prima carta dedicata all'inizio dell'inferno si visualizzare questa storia ma cos'è questa storia boccaccio ci racconta che le donne di verona dicevano guardando questo personaggio che si aggirava nelle strade della città vedete pelle scura capelli ricci è davvero tornato dall'inferno questa era una delle letture possibili un viaggio reale boccaccio si preoccupa di dire che non è così dante non è andato attualmente veramente all'inferno ma allora perché racconta questo ecco ci sono alcune risposte che ci sono fondate dai naturalmente dai commentatori ma anche dagli illustratori dante nel dante olcam dante è raffigurato nella letterina incipitalia dell'opera in questo modo un dante meditante un dante assorto nella sua visione menta mentale ciò che il libro racconta è ciò che questo personaggio ha elaborato nella sua fantasia ha meditato ha prodotto in altri in un altro celebre manoscritto lo stesso problema ha lo stesso problema si dà una risposta diversa dante dante dice chiaramente tant'era pieno di sonno a quel punto che la diritta via ha abbandonato dice chiaramente che è pieno di sonno noi lo leggiamo in senso morale sono i peccati ecc per i primi illustratori quel pieno di sonno viene letto in maniera più più letterale però di sonno vuol dire che sta dormendo ma l'illustratore dell'eggerton questo famosissimo e studiatissimo manoscritto mette in scena un dante a letto che sogna un dante in viaggio che si avvia verso la selva è la stessa iconografia utilizzata per il romano della rose dove si vede dove si vede dante amante che è il personaggio di questa di questo di quest'opera famosissima nel medioevo amante che sogna e sogna ciò che poi il libro racconta l'autore dice chiaramente io ero amante sta sognando e ciò che ora racconta dante non lo dice ma questo illustratore propone di leggere la commedia come il racconto dell'esperienza che dante ha avuto nel suo sogno un'altra possibilità è quella di usare il dormiente nella stessa forma che hanno con cui si rappresentano di solito vedete questo è giacobe che sogna i covoni che il suo covone che resta in piedi i covoni dei fratelli che si piegano è un sogno profetico anche questo dante che sta gioiato sulla roccia e sogna o vede la selva e in qualche modo allude a una dimensione profetica del testo questo è un codice famosissimo studiatissimo codice codice che si trova ai chantilly che dove appunto si avrà una visualizzazione fedelissima letterale del racconto dante che è uscito dalla selva sta anche scendendo dal colle perché è a dove ha trovato le fiere incontra virgilio la selva oscura vedete il bufo che rappresenta il buio della notte il buio del peccato invece gli uccellini del giorno che rappresentano appunto la possibilità di salvezza sul colle illuminato dal pianeta eccetera ma se ci vorrebbe un giorno a spiegare questo codice naturalmente devo andare più avanti il mio il tema però di questa mia riflessione è focalizzato su ugolino perché il caso rappresentato da ugolino prezioso ci permesse di attraversare questa storia in maniera un pochino più dettagliata focalizzando l'attenzione sui vari passaggi del testo noi eravamo già partiti già da ello che io vidi i due ghiacciati in una buca sicché l'un capo all'altro era cappello e come il pamper fame si manduca così il sovrano li denti all'altro pose lave e cervelle s'aggiugne con la nuca non altrimenti ti deo si rose le tempi a mena lippo per disdegno che quei fascea il testo e le altre cose questo è il tema con cui iniziano i commentatori illustratori più antichi la storia prima si usa dire così cioè i manoscritti più antichi mettono in scena prevalentemente la storia del viaggio visione dantesco dante e virginio o le altre con le altre guide attraverso i tre mondi dell'aldilà vedete dante e virginio davanti a un gruppo di tiranni che si trovano infilati nella ghiaccia dove sono puniti i traditori e subito dopo all'inizio del canto che a questa altezza viene chiamato capitolo 33 dante e virgilio davanti ghiacciati ma anche soprattutto ugolino che rode il cranio dell'arcivescovo ruggeri identificato da questo cappello specifico la vita e tutto questo sangue che cola quindi la questa è la storia prima che così viene visualizzata continuamente dai primi manoscritti vedete questo è un altro uno scritto famosissimo legerton 943 oggi ora a londra dante che acciuffa bocca degli abati per la cuticagna e subito dopo poco più avanti dante virgilio davanti alla scena oro rosa di ugolino che rode il cranio all'arcivescovo ruggeri ugoli botticelli mette in scena nelle sue celeberrime pergamene un centinaio di pergamene una parte delle quali si trova alla biblioteca vaticana una parte a berlino queste in queste pergamene famosissime botticelli mette in scena praticamente ricorrendo a te alla tecnica della illustrazione simultanea tutto il viaggio di dante vedete questi sono i piedi dei giganti dante è stato trasportato da uno di loro verso la parte più bassa delle dell'inferno dove appunto nella ghiaccia sono pubblici traditori vedete addirittura una specie di piccoli fotogrammi dante che guarda avanti dante che si piega virgilio che spiega passano sopra la coppa dei due fratelli che si che lottano tra di loro siamo nella caina poco più avanti virgilio cammina e dante si piega a strappare i capelli tirare la cuticagna bocca degli abati ancora più avanti dante vengirio davanti ai due che sono impegnati nel rito orribile del rode del cranio del nemico ho fatto ho messo qui anche questa immagine della mappa della voragine infernale perché è la più celebre visualizzazione dell'inferno che è arrivata fino a noi ed è anche lo schema su cui sono costruite ancora oggi le i diagrammi che corregano le illustrazioni scolastiche della commedia siamo in questa zona il cosciuto e poi poi lucifero ricordiamoci di questi piedi dei giganti perché tanti secoli dopo 1774 fiusli un pittore svizzera attraversato che è educato al culto di dante da un intellettuale importantissimo che è bozmer lo svizzero tedesco bozmer poi transitata attraverso londra vedremo perché questo è importante e poi arriva in italia in italia probabilmente vede le pergamene di botticelli che sono alla vaticana e riproduce un po lo stesso la stessa immagina stessa scena naturalmente focalizzando l'attenzione esclusivamente su questo questo dante che si sta apprestando a urlare no questa tirata telebre contro pisa ai pisa eccetera eccetera mentre a suoi piedi come due pietre di inciampo ucolino e il suo nemico l'arcivesco bruggeri mentre dietro il vigilio si è ancora fermo alla scena precedente ancora la scena questa scena terribile che è appunto la più interessante quella che interessa tutti a questa altezza cronologica gustavo doré a cui si deve come tutti sanno più celebre illustrazione ottocentesca della commedia che ancora oggi fa riferimento ad essa si ispirano ancora oggi gli artisti molto spesso per produrre le loro opere in questo caso è un quadro non è un incisione dante virgilio sulla ghiaccia davanti alla scena del terribile pasto ancora due esempi questo è ancora la storia prima focalizzata attentamente e esclusivamente sul l'orrore del pasto questi al pasto di ugolino con ricordo di pisa questi alberto mattini martini lorenzo mattotti autore del una delle ultime illustrazioni dell'inferno per le edizioni nuage donisetti vedete questa scena focalizza l'attenzione su questi capelli che vengono spostati da ugolino per con un gesto veramente un libro aprirsi la bocca dice dante e poi domenico ferrari su questa vorrei soffermarli perché ci permette di passare ad un altro tema della nostra conversazione cioè vedete domenico ferrari è un'operazione recentissima 2015 rappresenta ugolino in queste sue opere queste sue tavole che sono dell'acqua forti introducendo accanto alle immagini anche proporzioni del testo come un poco di raggio della parte superiore riprese il testo misero coi denti che furo all'osso come duncan forti che il passaggio sulle terzine che chiudono il racconto di ugolino prima della tirata ai pisa eccetera vedete che ferrari ha messo in scena questo pasto bestiale focalizzando l'attenzione e esasperando i tratti bestiali come un can appunto i tratti bestiali dei due implicati in questa azione ma contemporaneamente evoca la scena di ciò che probabilmente è nella mente del lugolino infitto ora nel ghiaccio di dell'antenora che nella mente ha ancora fitta il ricordo di ciò che la torre della muda è accaduto cioè lui con i figli con un raggio è uno dei pochissimi casi della storia che cerco di ricorrere qui di illustrazione che tiene conto sia della storia prima cioè della scena che si presenta a dante pellegrino che di ciò che è stato allora nel mondo la causa di questo evento che così viene fissato nell'aldilà tu devi sapere quindi si passano a parlare di questo alla morte cruda di ugolino tu devi sapere che io fui conto ugolino e questi è l'arcivescovo ruggeri o te dirò perché sono a tal vicino che per l'effetto dei suoi mai pensieri fidandomi di lui io fossi preso e poscia molto dir non è mestieri però che quel non puoi avere inteso cioè come la morte mia fu cruda udirai e saprai se mi ha offeso breve pertugio dentro dalla muda la qual per me ha il titolo della fame eccetera tra pochissimi casi antichi di illustrazione della storia seconda di questo racconto della vita vissuta del personaggio è questo codice che ora è a budapest vedete siamo a 30 e 45 insomma siamo quasi a ridosso della morte di dante è un codice studiato ecco vedete il testo è un po questo ed è il momento in cui è questo è quello che è scritto nel sopra l'immagine ed è questo ed è un po strano perché i personaggi dovrebbero essere quattro golino con i tre figli invece qui è messo in scena il momento in cui i figli desti appena svegliati si dalle dal sonno e chiedono il pane il pane non è non sta arrivando e quindi per suo sogno ciascuno dubitava ed io senti chiara l'uscio di sotto è la scena che più puntualmente è illustrata nel manoscritto james thompson dove appunto è uno dei rarissimi casi in tutta la storia del dante illustrato in cui dante e virgilio sono rappresentati sia nel momento in cui camminano nell'aldilà e incontrano i dannati sia nel momento in cui ascoltano la storia terribile del vissuto dei singoli personaggi vedete dal golino che ha solleva la bocca dal fiero pasto vedete l'esistenza sul colore rosso del sangue che torna nel momento in cui il momento in cui vi di cascare eccetera ambo le mani per il dolor mi morsi questo momento questo momento che è provocato dal fatto che un volino appena sentito che fuori qualcuno ha chiuso ha chiamato l'uscio della torre è qui rappresentato come un nudo che sta appunto battendo con dei chiodi chiudendo con dei chiodi la porta della torre e vedete in questo caso oltre alla storia seconda che è qui raffigurata c'è anche raffigurato il sogno quel sogno che golino dice di aver avuto profetico dei figli e se stesso inseguiti da dei cani che annunciano la sorte futura il mal sogno che del futuro mi squarciogli mirà tutta la scena è qui la presa rappresa in qualche modo dentro il breve spazio della torre il raggio che penetra dentro la torre ugolino che vede i figli nei figli e lo stesso volto lo stesso aspetto che lui ha e poi alla fine quando li vede cascare i tre perché gatto è già morto ad uno ad uno tra il quinto di e il sesto dio mi diedi già cieco a branco lar sopra ciascuno e poi tante vicino riprendono il cammino e incontreranno frate alberigo in questo è un tema di che ha avuto un certo successo nel cinquecento vedete stradano illustra un po è un po lo schema ripetuto anche da domenico ferrari cioè dante vigilo dialogano con ugolino che ha appena alzato la bocca sollevato dal fiero pasto che ricorda ciò che è successo allora e che è intellibilmente fissato nel suo ricordo cioè l'estremo momento in cui il suo corpo brancola sui cadaveri dei figli stradano ha fatto diverse illustrazioni numerose illustrazioni del del testo dantesco oggi si trovano conservate alla laurenziana prima di lui a un volino ha dedicato questo splendido basso rilievo pienino da vinci è un nipote di leonardo che questo è un episodio molto interessante di questa storia è un bronzo oscuro patinato di nero vuole essere appunto lungubre l'artista era allora a casa ospite della casa pisana di luca martini che è un famoso dantista era un ingegnere ma era anche un appassionato dantista lui si devono operazioni importanti a livello di filologia dantesca recupero del testo originale eccetera e quindi luca è uno che martini è uno che conosce bene il testo vedete il testo è molto presente qui addirittura è scritto inferno tanto al trentatresimo ugolino i figli però anche qualcos'altro questa terribile immagine donna emasciata rappresenta la fame che ha dita a ugolino qualcosa il suo futuro ciò che verrà che è sintetizzato dalla scena in fondo però siccome è poco leggibile in questa forma scura che è l'originale vi faccio vi faccio vedere meglio in questo che è uno dei multipli oggi si direbbe così che da quello sono stati tratti nel pressoché immediatamente che poi è trattato in circolazione questo questo basso rilievo bianco o alcuno di cera o di marmo sono poi arrivati in inghilterra e questo fatto importante vedete questo personaggio è un dio fluviale rappresenta l'arno questo è il marzocco ricorda firenze e e poi vedete queste due strane figure che sono spiegate soltanto da ciò che si legge nel testo e vi leggo questa famosissima apostrofe contro pisa ai pisa vitupegio delle genti del bel paese laddove il sì suona poiché vicini a te punire son lenti muovasi la capraia e la gorgona e facciansie padarno in sulla foce sicché gli annieghi in te ogni persona che se il conto ugolino aveva voce da aver tradito a te delle castella non dove i tuoi figlioli porre a tal croce innocenti fascia di tal novella novella tebe un gucione il brigata e gli altri due che il canto susa appella ecco questi due sono esattamente la capraia e la gorgona che fanno si è padarno in modo che anneghi in te ogni persona è questo che annuncia la fame a ugolino è ciò che capiterà e allora sarà interessante ricordare che luca martini fiorentino ingegnere è stato mandato da cosimo a pisa perché liberi la città dalle acque zone paludose che infestano la città quindi vedete è strettamente legato all'esperienza biografica questa costruzione pisana delle della storia di ugolino tiene presente tutto il testo anche l'invettiva e rappresenta forse più fedelmente di quanto non facciano gli altri illustratori gli adulti e figli di e nipote di ugolino adulti non bambini come si legge e si vede nelle altre illustrazioni luca martini probabilmente aveva un contatto a pisa e conosceva più puntualmente la realtà di questa storia questo basso rilievo è arrivato l'inghilterra nel 1719 per il transito delle cose d'antiquariato un teorico d'arte nel 1719 scrive un trattato in cui si misura con con questo testo che crede essere di michelangelo e torna a leggere ugolino addirittura torna a tradurre ugolino a questa altezza cronologica all'inghilterra ugolino si leggeva nel medioevo ghiacciose ma altre traduzioni a questa altezza non esistono richardson è questo il personaggio di cui sto parlando traduce per sé ugolino per confrontare il testo di dantesco con il basso rilievo del creduto michelangelo e facendo svolgendo una riflessione che tipica l'istoria dell'arte cioè la gara delle arti dice manca la pittura quale risultato potrebbe ottenere ancora più patetico ancora più efficace che non la scultura potrebbe ottenere un pittore alcuni anni dopo nel 1770 un pittore risponde reino se risponde a questo appello mettendo in scena questo questo ugolino che ha segnato l'inizio della storia lunghissima è il primo quadro dantesco che noi conosciamo 1770 non è ancora la moda di questi quadri è un episodio fondamentale nella storia della ricezione di dante perché dante entra in inghilterra grazie a questo quadro che avrà molto successo e verrà esposto e darà occasione per riflessioni interessanti a cui faccio segno rapidamente focalizzando l'attenzione su come reynolds rappresenta questo personaggio ugolino lo veste naturalmente non è più nudi in una in una prigione ma sono un paradissimo conto atterrizio che guarda lontano i figli attorno illuminati da questo poco lume che esce dalla finestra della torre della muda vedete le mani non sono portate alla bocca ma sono strette in forma di esprimere dolore terrore ma non alla bocca ed è un conte vestito come un conte è un mantello sontuoso rosso con la pelliccia questo è un fatto interessante perché baretti che è in inghilterra in questo momento ci racconta che quando fu esposto questo quadro ci furono dei commenti molto interessanti lui li riporta e dice appunto fa parlare un cane un gatto che dicono io non vorrei essere sottoposto a questa a questa trovarmi in queste condizioni quelle in cui si è trovato ugolino l'altro gli risponde lo so noi amiamo la libertà allora questa parola importante perché ci dice che quel conte come verrà appunto avverrà di lì a poco diventa un simbolo della libertà un liberale addirittura e dante che ha messo in scena un conte contraddito da un arcivesco va bene addirittura letto stupitevi come dante protestante quindi entra in questo modo nell'inghilterra del tempo in tempi molto vicini a questi faccio scorrere rapidamente in termini cronologici molto vicini quel fuseli che abbiamo già visto per altre ragioni in precedenza venerità degli anni settanta e da vita una serie di opere con soggetto dantesco ugolino è uno dei temi privilegiati vedete qui si accentua il sublime il patetico l'orrore ma il più interessante opera di fuseli è sicuramente questo ugolino ugolino nella torre con i figli che lui fa in inghilterra quando torna in inghilterra a londra e vede l'olio di reynolds contesta quel tipo di illustrazione e mette in scena questo ugolino un ugolino terribile che tiene sul corpo uno dei figli morti gli altri sono soltanto in parte evocati nelle delle a sé fianchi è un quadro su cui si potrebbe dire molto ma naturalmente faccio rapidamente perché voglio vedere altro vorrei solo farvi vedere che è costruito pensando alla pietà di michelangelo cioè questi illustratori inglesi negli anni settanta ottanta del primo della fine settecento pensano ugolino come il padre tradito il padre tradito il conte tradito dell'arcivesco il padre messo di fronte alla morte terribile dei figli anche blake fa operazioni simili vi faccio scopi scorro le illustrazioni di blake che mettono in scena vari episodi della storia prima vedete al solito dante che tira i capelli di bocca degli abati ugolino che rode il cranio ugolino che comincia a parlare l'arcivescovo è ricordato da questo cappello cardinalizio ecco ma l'ultima scena che lei che colora fan traduce anche in quadro dipinto ci fa veramente impressione dentro questa storia perché vedete questo ugolino è davvero la sintesi di un modo di pensare dante e che è la più remota dal testo blake contesto il modo di pensare il dio cristiano da parte di dante il dio di dante secondo blake è un dio tirannico che impone delle regole precise e giudica e condanna è un dio che ha dimenticato il messaggio cristiano di cristo quindi qui il ugolino diventa addirittura un santo scusate diventa addirittura un santo un aureola lo circonda singe affettosamente ai suoi fianchi i figli gli altri sono ai lati in questa posizione elegiaca e quella che era l'antica fame che svolazzava promettendo vendetta ugolino del basso rilievo di più genio da vinci sono diventa addirittura due angeli che creano una specie di capanna protettiva su ugolino seduto alla base di questa illustrazione c'è questo vecchio disegno vedete 1793 di blake in cui la scena è assolutamente la stessa e blake scrive questo che significa appunto prete ti prendi davvero il tuo dio davvero si prende una una vendetta come questa è porto un attacco a questo modo di pensare il dio e pensate che lo stesso blake è quello che mette in scena la storia di paolo e francesca il vortice dei russuriosi dante svenuto alla fine vigilo che assiste ma paolo e francesca sono presenti non dannati ma addirittura in una aureola luminosa il loro bacio è esaltato come un quasi con un atto sacro e vedete il ritratto di dante giudice è dentro la prigione e un golino vedete altro che braccia le mani che si mordono a braccia incatenate stringe i figli quindi il padre tradito il padre così ancora gustavo durè sono celebri illustrazioni mi fermo un attimo su flux ma c'è ancora i disegni sono ancora in contemporanea le operazioni di se guardi poco le operazioni di fuseli e di reynolds e sono contemporanea quelle di blake vedete flux ma in questo suo disegno mette in scena un golino che brancola sopra i figli ricorda yes il codice yes thompson forse l'ha visto forse ha visto stradano ma insomma stava passata un altro tema il tema del brancolare che è quello che apre all'ultimo all'ultima ipotesi interpretativa la più terribile la più terribile quella che naturalmente vorrei leggervi un passo di borchis il problema storico su golino della ghilardesca ha esercitato ai primi giorni di febbraio del 1289 il cannibalismo è evidentemente insolubile il problema estetico letterario è di tutt'altra natura lo si può enunciare così dante ha voluto che pensassimo che lugolino lugolino del suo inferno non quello storico abbia mangiato la carne dei suoi figli a rischierei questa risposta dante ha voluto non che lo pensassimo ma che lo sospettassimo ecco carpo non ha soltanto sospettato ma ha messo in scena terribilmente un'idea precisa un'idea precisa l'idea della tecnofagia annunciata dall'ambo le mani per il dolore mi morsi questa celebre stato che ora è a new york al metropolita vedete avete già un figlio un figlio morto il più piccolo i piedi tessi dalla tensione le mani morte su questo tema torna rodent sul cui opere si chiude questa mia riflessione carrellata su la storia di ugolino esemplare nella storia della tradizione illustrata e visualizzata della commedia perché ci permette di vedere quante interpretazioni dello stesso testo siano state date dagli artisti dal più o meno neutro da più o meno filologico al più impegnato ed esplicito che è appunto rappresentato io credo da queste disegni e sculture quindi visualizzazioni non illustrazioni fatte da questo celebre scultore francese rodent ha dedicato una riflessione attentissima che si è tradotta in una serie di disegni di cui vedete qui alcuni esempi ma è più interessante forse questo dove si legge ugolino che divora ugolino che interrompe il suo pasto è molto esplicita l'idea che rodent ha dell'episodio dantesco l'ugolino è la visualizzazione di ugolino è funzionale per rodent alla costruzione della porta dell'inferno un'opera famosissima tra cui tra poco do una qualche riproduzione per ricordarla ma vorrei partire da questa prima riflessione focalizzata su un particolare della di una dei modelli provvisori che rodent ha fatto per in vista della scultura finale dove vedete ugolino è in piedi in piedi come nella statua di carpo e già è costruito esattamente sul disegno che abbiamo che abbiamo già visto questa è la porta dell'inferno di rodent a cui ha lavorato tutti gli anni che vedete qui e non è stata neppure da lui tradotta in forma definitiva in bronzo è rimasta nella forma di cesso in bronzo altri l'hanno tradotta e vedete ugolino e paolo e francesca qui si vede si vedono dal in particolare più preciso ugolino per ragioni probabilmente di spazio a cui ha assunto questa questa precisa posizione con un figlio fra le braccia e queste sono paolo e francesca che ruotano è anche interessante perché lo dai combina un'immagine dell'aldilà della storia prima è un'immagine del qui e del vissuto e terreno di ugolino naturalmente su questa porta si potrebbe parlare non a ore ma giorni ma non è certo questo il momento mi soffermo soltanto farvi vedere gli esiti finali di questa di questa operazione compiuto da rodent vedete diventa anche visualizzazione pura cioè una statua anzi multipli varie statue una si trova nel giardino del museo rodent l'altro si trova al museo d'orsè e questo è interessante di tutti su questo si chiude la mia riflessione perché in qualche modo permette di vedere appunto l'esito finale del percorso che abbiamo fatto cioè in questo è un disegno provvisorio del di carpo di cui abbiamo visto la scultura metropolita al museo vedete è ugolino che brancola sui figli sappiamo che questa è un'idea legata veramente all'orrore della tecnofagia rodent partito lui da una statua in posizione orizzontale arriva invece a rappresentarlo in fin chiusura della sua esperienza in questo modo brancolante sui cadaveri dei figli alcuno ancora in vita il modello antico è questo ed è quello del del lupo mannaro lupo mannaro che divora naturalmente un bambino su questa scena terribile questa bocca spalancata di ugolino che è diventato davvero la bestia cui di cui parla dante no il gesto bestiale di questa bocca sollevata dal cero pasto non è il dante nell'inferno è il dante vivo sulla terra ma così l'ho voluto rappresentare il dante il lugolino di rodent e su questo mi chiudo la mia carrellata su questa vicenda terribile del testo e delle illustrazioni